Elisabeth Buffett Revisore Revisore Cari amici, benvenuti in un sogno. Questa non è la solita iperbole che si dice ogni volta dentro un bellissimo edificio, perché qui dentro, quasi 500 anni fa, si è materializzato un sogno, far rinascere il teatro degli antichi romani. Il teatro è una parola chiave per il Rinascimento, una parola magica. È un luogo laico dove riunirsi, in alternativa alle chiese, dove stare insieme, provare emozioni, riso, rabbia, divertimento. Gli uomini del Rinascimento conoscono il teatro attraverso i libri, leggono Plauto, Terenzio, leggono le tragedie greche di Eschilo e Sofocle e vogliono ricostruirlo. Ci provano un po' tutti, ci prova Abramante, ci prova Raffaello, ma l'unico che riesce a farlo veramente è Palladio. Certo, come dire, Palladio non ci arriva per caso, studia per anni, passa mesi e continua a Roma, studia tutti i teatri a Pola, a Verona, arriva fino a Napoli. Ma non è semplicemente lui il maestro di questo teatro. C'è anche qualcun altro e se alzate gli occhi e guardate dietro di me, li vedete, sono gli accademici olimpici. Pensate che in cambio di dieci ducati, come vedete il fundraising non lo abbiamo inventato noi, si poteva avere la propria statua nel teatro olimpico. E così provate a immaginarvi il gioco dei Poiana, dei Tiene, dei Chiaricati che erano seduti dove siete voi adesso e si vedevano se stessi rappresentati nelle statue. L'Accademia Olimpica era una specie di, una via di mezzo fra un'associazione culturale e un istituto di ricerca e, cosa unica in Italia, teneva insieme nobili e intellettuali. Ma perché questa strana alleanza fra potere e cultura? L'obiettivo era costruire il futuro, perché dovete sapere che i nobili vicentini non erano dei grandi possidenti che vivevano di rendita, ma erano tra i più grandi produttori di seta in Europa che commercializzavano in tutte le città. Vicenza all'epoca era piena di zone industriali, come quella che vedete qui, vedete quei mulini lungo il fiume, stiamo a Ponte Posterla. Ecco, in quei mulini si filava la miglior seta d'Europa e le famiglie vicentine, le famiglie nobili, l'andavano a vendere ovunque, ad Anversa, a Francoforte, a Ginevra, a Norimberga, mandavano i loro figli a imparare le lingue per commercializzare i loro prodotti. Addirittura, come si dice oggi, innovavano il prodotto, perché quando la seta comincia ad andare abbastanza bene si inventano le mezze lane, cioè una specie di antenato del jeans che mette insieme cascami di lamana e cascami di seta, una stoffa molto robusta e che vende moltissimo. Ma perché questa classe dirigente così dinamica di case in Europa, il nord-est, pensate che Manchester ha 3.000 abitanti nel Cinquecento, Arzignano ne ha 7.000, ci sono 400 telaia schio, perché questa classe dirigente sceglie Palladio come proprio architetto? Beh, quando uscirete da qui, fatemi un regalo, andate in contrapporti e guardate questo bellissimo palazzo, è un palazzo tardo-gotico, vedete, le finestre sono di pietra lavorata, molto ricche, addirittura il portale è incrostato di marmi, ma la cosa interessante, vedete che la porta non è al centro della casa, è spostata e anche le finestre si aprono più o meno dove serve, ma soprattutto, se ci fate caso, vedete che la strada curva e il palazzo curva con lei. Ottant'anni dopo Palladio deve costruire un palazzo a fianco a quel palazzo tardo-gotico e vedete cosa fa? Fa perno su un angolo e raddrizza il palazzo, totalmente indifferente al fatto che si crei davanti al palazzo e quello strana piazza rettangolare, ma questo è perché per Palladio conta il suo progetto. L'idea di avere un lotto, una direzione, non c'entra che la strada gira, io ho il mio progetto. Dovete pensare che è questo l'uomo al centro del cerchio di Leonardo. Essere al centro del cerchio vuol dire voler essere protagonisti del proprio destino, voler decidere, non importa se la strada gira, io ho il mio progetto. Ma questo non basta. Dovete immaginare che Palladio passa mesi, anni a Roma e misura, vedete questo è uno dei suoi disegni, misura minutamente i pezzi dell'architettura antica. Ma cosa sta cercando? Lui sta cercando l'algoritmo, sta cercando le matematiche dell'architettura antica, sta cercando la regola che lui sapeva esserci nei monumenti antichi, per cui un edificio di Palladio è come una macchina matematica. Ogni elemento è multiplo di un pezzo della colonna, del diametro della colonna. Non c'è una sola dimensione di un palazzo di Palladio che è casuale, ma sono tutte collegate come un enorme gigantesco meccanismo. Per noi Palladio è tradizione, è il passato, ma guardate che ai suoi tempi Palladio è trasformazione, è rivoluzione. Questo è l'architettura quando Palladio arriva. Questa è l'idea di ricchezza. Vedete? Edifici rivestiti da marmi colorati. I ricchi erano colorati nel Cinquecento, i poveri si vestivano con i colori prada, grigino, begiolino, gli architetti si vestivano già di nero. Ma a questa ricchezza dei materiali Palladio risponde con un edificio come questo. Vedete? Con una bellezza tutta mentale, con una bellezza astratta, un colore bianco. Io penso a questi edifici palladiani come delle grandi astronavi che calavano nella Vicenza Medioevale, e credo che l'impatto che hanno avuto sui vicentini è lo stesso che hanno avuto sui paregini la Ville Savoie di Le Corbusier. Questo per dirvi che io non credo che i beni culturali, che spazi come questo, siano il petrolio dell'Italia. Non penso che il nostro obiettivo sia quello di mettere a reddito, di affittarli. Io non sogno un'Italia di affittacamere, una Disneyland in cui gli altri vengono a visitarla. Io penso invece che la storia, le radici, siano il valore aggiunto del nostro agire sul presente. Sono quello che ci dà la forza, sono 500 anni di capacità di innovazione, di creatività. Qui in Italia si produce bellezza da 500 anni. Le ville palladiane mica sono luoghi di villeggiatura, sono fabbriche, sono luoghi dove si produce, dove si trasforma il territorio. La cosa è che loro hanno saputo produrre ricchezza con la bellezza, noi purtroppo non ci siamo riusciti. E quello che dovremmo fare è cercare proprio di recuperare questa capacità. Ma perché ci riescono i contemporanei di Palladio? Perché studiano. Vicenza è la città che ha il maggior numero di laureati di tutto il Veneto. E ho trovato ieri in un diario di uno dei committenti di Palladio che questo scrive, si chiama Fabio Monza, 11 marzo 1586, non sono uscito di casa, trattenuto senza vedermene nella lettura di Flavio Giuseppe De Bello Giudaico. Cioè, grande imprenditore Fabio Monza si dimentica di uscire da casa perché sta studiando la storia degli antichi romani. Se vogliamo che Palladio continui a parlarci, però dobbiamo studiarlo, dobbiamo continuare a lavorarci sopra. Le cose che vi racconto, noi le sapevamo fino a tre, quattro anni fa, sono delle novità uscite da grandi studiosi come Howard Burns, ma anche da giovani come voi di 30 anni, come Andrea Savio, come Edoardo Demo. Bisogna continuare a interrogare il passato, bisogna continuare a studiarlo, perché nel passato abbiamo una risposta ai nostri problemi, in un presente che cambia così rapidamente davanti ai nostri occhi. Solo il passato può darci lo spessore critico per leggere il nostro presente. Un paio di anni fa abbiamo costruito il Museo Palladiano, e abbiamo cercato di non fare, come dire, il mausoleo di un eroe morto, abbiamo cercato di fare un luogo dove gli studiosi raccontano come studiano Palladio. Non abbiamo neanche voluto fare una bottega turistica, ma un luogo di ricerca, un luogo, come dire, in cui si può entrare e capire che cos'è Palladio, come lavorava, come era la sua società. Però al centro del cortile abbiamo deciso di piantare un gelso per ricordare al centro del Museo Palladio che la Palladio Story non è la storia di un genio isolato che è nato per caso qui, ma è la storia di una società che ha deciso di scommettere sulla trasformazione, sull'innovazione, sul cambiamento. Dovete immaginare che l'Italia del Rinascimento non era una specie di Eden, ma era un paese in crisi, frantumato in piccoli stati, in lotta fra loro, percorse dalle armate stranieri in totale balia delle grandi potenze europee. Bene, in quella crisi, ricercando nella grande architettura del passato, nel grande pensiero del passato, è nato il Rinascimento. Sono nato Michelangelo, Raffaello, Palladio. Bene, nella crisi di oggi non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo riflettere su quella sfida, su quella capacità della cultura di costruire il futuro, su quella sfida che allora fu vinta. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.